Mercato tutela gas addio. A gennaio si passa al mercato libero. Il passaggio è gratuito. Estra continuerà a rifornire i propri clienti senza necessità di azioni burocratiche o amministrative. Ancora tentativi di truffa ai danni di clienti Estra. Estra informa che i suoi numeri di telefono sono consultabili sul sito della società. Estra non chiama i propri clienti per proporre variazioni ai contratti di luce e gas. È nata CERCA, la comunità energetica rinnovabile che ha Estra Clima come partner tecnologico. L'obiettivo di CERCA è diffondere le pratiche di sostenibilità ambientale ed energetica nella provincia di Firenze. Estra scende in campo a fianco di due società di serie D. Per la prima volta il gruppo energetico lega il proprio nome al Prato Calcio, mentre rinnova la propria partnership con il Grosseto Calcio. Grazie a tutti.